o eccoci qua siamo appena arrivati al Dubai Cafe ciao Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora vuoi raccontarci cosa succederà nei prossimi giorni? Allora, il 16 avremo un bellissimo spettacolo con Valentina Ricce che è una grandissima artista e lei praticamente ballerà a suon di musica anni 80-90 con quattro splendide ragazze vestite in modo particolare, quindi vi dico non perdete questo spettacolo perché è bellissimo e è imperdibile proprio. Tra l'altro so che adesso ci fai una piccola sorpresa, c'è un tuo amico, vero? Sì, diciamo che se ci seguite di là praticamente vi presento un amico particolare e speciale, piccolino ma grande. Allora andiamo, seguiteci, ciao. Ho visto che sei affiancato da una bella signora che però nasconde un discolaccio, ciao. Ciao, ciao. Ecco chi si nasconde, ciao. Ciao, ciao a tutti quanti. Come state? Bene? Oh, mi raccomando, guarda che qui va a divertire, pure se non c'è sto io a divertire. Ma si divertono col fischio o senza? Come gli pare a loro? A parte che al Varo ormai noi siamo paesani perché siamo tutte e due i sette cammini, la mamma ha lavorato alla famiglia e ha cresciuto a sette cammini, quindi conosce un po', tra le famiglie in Borgata ci conosciamo un po' tutti. I miei sono venuti a abitare qui, ma io sono stato a Trastevere con una nonna, ho vissuto sempre a Trastevere, però venivo qui da piccolo, da ragazzotto, perché c'ho i fratelli tutti qua e via. Qui abbiamo fatto questa location nuova, come diceva, infatti, è bellissima, l'ho sverginata io. Ma fa come te bello! Perfetto, allora noi vi salutiamo dal Dubai Cafè, ciao alla prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao. Caraocchi TV, in onda tutte le domeniche alle 22.30 su Gold TV.